Sei un accanito giocatore dell'otto, ma sei stufo dei soliti canali che ti prendono in giro e non ti fanno vincere mai? Sky ha creato il canale giusto per te! Massimo Mauro Sat! Il canale dei numeri dell'otto di Massimo Mauro, l'uomo che è entrato nella storia dei pronostici con i leggendari Questo internet sarà un flop! Veltroni è l'uomo giusto per guidare il PD! Sanremo? Per me vincono i Poo! Con Massimo Mauro Sat, canale 8874 di Sky, vincere è semplice Ti segni le previsioni di Massimo Mauro, vai al tabacchino e giochi tutti i numeri che non ha detto lui Vinciti assicurate con il sistema di Massimo Mauro Sat Massimo Mauro Sat è un'esclusiva Sky